Anche Enrico il Bagnino da ieri ha un nuovo mezzo di locomozione in mare L'abbiamo visto, l'abbiamo visto sui social imbarazzante Un enorme salvagente a forma di Quincy, il Quinzone è stato chiamato Buongiorno Enrico Buongiorno, effettivamente il Quinzone che ho anche notato come non sono più agile come un tempo perché per cavalcarlo sono anche caduto, quindi veramente ormai scene patetiche Ma d'altronde quando purtroppo uno a una certa età si fa prendere dalla mania dei social network poi finisce così, finisce così Tra poco ti vedremo fare delle coreografie in spiaggia ballando Allora lì però fatemi venire a prendere da qualcuno quando mi vedrete ballare Tu sei chi, vabbè Sarà una bella settimana, bella settimana Al limite poi ho tanti per altri piatti La vigore sarà una bellissima settimana anche su una lì Vi approfitto Enrico, seriamente, per dire guardate la festa di Radio DJ sarà davvero una delle più belle feste che dovrete fare Viaplaya Per fare Buongiorno Una bella Scriva Allora Cu bestimmt